Gira, gira, ecco, gira anche dall'altra parte, vai, oh, così, ci sei adesso? Metti le mani in mano, alza un po' la testa, vieni verso di me, perché adesso diventerai un vero direttore dell'orchestra, vai, ok, ci siamo, va bene? Ma che c'è ancora? Non va bene? Ho capito, sono le tue fans, ti vogliono sposare, capito? Ok, va bene, no, che c'è? Non va bene ancora? Va bene, metti le mani in mano, così, sei pronta Michael, conta fino a 50.000, vai, uno, due, tre, sveglia, no, Michael, uno, due, tre, eeeh, vieni direttore dell'orchestra, vai, 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 facciamo senza smestito, va bene, Michael, non c'è problema, vai, ti do una bacchetta per dirigere l'orchestra, vai, andate a posto ragazzi, perché adesso è ora di cantare, sei pronto Michael? Va, con la bacchetta, loro cantano e finiamo la giornata musicale, sei pronto? Sai come si fa? Ti spieghi, guarda, loro cominciano a cantare quando tu muovi il braccio, così, guarda, nella vecchia mattoria, aspetta, aspetta, stavano dormendo, adesso si svegliano, aspetta, aspetta, guarda, via, via, perfetto, ci siamo, Michael, dirigi quest'orchestra, via, e la vecchia fattoria, via, no, ti ho detto di tenere stretto la bacchetta, ok? Allora, tieni stretto la bacchetta con la mano, con questa mano, Michael, con questa, oh, ci siamo, vai, tutti insieme, via, nella vecchia fattoria, Michael, scusa, tieni stretto, per presto, ecco, ci siamo, nella vecchia fattoria, no, Michael, ti ho detto di tenere stretto la bacchetta nella, 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 ma, ah, vabbè, andiamo, vai, tutti insieme, via, nella vecchia fattoria, via, via, quante bestie ha giunto via, 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 c'è il cane, c'è il cane, c'è un cane, c'è un gatto, sembrava il fratello del cane, c'è il cane, c'è il gatto, c'è un'occhetta, c'è un'occhetta, c'è un'occhetta, c'è un'occhetta, c'è un'occhetta, nel vecchia fattoria, Michael, devi dirigere l'orchestra, nella vecchia fattoria, via, 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 oh, 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 oh domani mattina